Il suo Hugg. Grazie Mario. Chi ama il caffè sa che Hugg è un piacere che non finisce mai. Caffè Hacker. Il piacere di un gran caffè ogni volta che vuoi. L'archivio segreto di Mussolini. La vera storia dei Savoia. Il mistero Hitler. Per scoprire eventi e personaggi che hanno fatto la storia del Novecento, Biblioteca Storica. Una collezione di valore. Il primo libro è in regalo sabato con il giornale.